e prenderlo dopodiché passiamo oltre e andiamo a distruggere l'antenna radio che sta nel castello di Little Babel ora, noi siamo i tedeschi è il 1941, 22 giugno operazione Barbarossa e dobbiamo attraversare questo fiume che si chiama Daugava dobbiamo attraversarlo quindi ci troveremo di fronte i russi e ci saranno dei carri ci saranno dei cannoni anti-carro quindi è un po' tostina soprattutto la parte iniziale la prendersela con un po' di calma l'affanteria più che altro si metterà a VP2 e fa un po' di spotting verso VP3 e VP4 a Zotto visto che c'è lo Stuc potrebbe fare 2-3 bombardamenti giusto per aprire il carro penserà all'artiglieria soprattutto da una sponda all'altra la dovrebbe distruggere senza problemi e dopodiché appena i pezzi grossi dall'altra parte del fiume sono liberati attraversa il carro subito dietro l'affanteria prende VP3 lo conquista passiamo oltre e via via così la mix è molto lineare molto semplice se avete altre domande e ha una particolarità tutti abbiamo la radio tutti abbiamo il GPS e non c'è il sangue come? ok come un'altra roba perché è un po' più semplice visto che siamo pochi e eccetera corpo speciale della seconda guerra mondia ho semplificato un po' dai e soprattutto non c'è il sangue perché essendo che siamo pochi e dopo diventa un casino è come nella parte parallela di ritorno al futuro posso fare presente che nel 1941 non c'erano ancora i cari tigre infatti faccio fida che sei al 43 dai perché prima sta giocando oggi non doveva essere disconnesso ops come se vuoi faccio alterfe 4 no avete domande ragazzi? Aldir? Red? non penso ci gestiamo un attimo magari una squadra va a destra fa fuoco da una parte come avevo messo in mappa certo suppongo che ci sia gente in questo isolato qua sì ok quindi possiamo fare due postazioni DMG una qui una a destra una a sinistra del fiume c'è gente c'è gente e sicuramente in questa parte qua a VP3 e a VP4 è molto precedente a VP4 quindi da VP1 possiamo o come volete voi decidete voi dite a Zotto parlate con a Zotto e mettetevi d'accordo direttamente con lui io col carro sto leggermente io col carro sto leggermente qua dopo se voi avete bisogno avanza un po' se c'è troppo casino inghietreggio ok quando possiamo fare una squadra va sulla destra e una sulla sinistra della strada prendiamo queste due posizioni qui e poi facciamo fuoco sul ponte una volta che il carro ribelliamo la l'ingresso del ponte possiamo far avanzare il carro perfetto sono cose 400 metri almeno dall'inizio del ponte alla fine all'isolotto e l'unica cosa che vi dico è quando stazionate su quella sponda lì del fiume occhio che arriverà al mondo da quella parte lì quindi ok arriverà all'interno uno di sovietica e non mi ricordo se c'è una pala una pala non so e non mi ricordo se l'ho messa o meno una pala e al massimo faccio un virtual arsenal completo vi prendete una pala se avete bisogno di farvi una trincetta no posto a posto ok baby è posto ma quanti carri perché è easy lasciamo canale 1 e radio oh si si può lasciare ma tiri fuori la radio quando fai la radio ma una domanda il tasto della radio qual è che è bindato eh beh bloc maio prova 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 ok loud ok ok buco ti ha dato un tagger che belli con gli stiocchielli di signora scusa ma quello l'ha visto red oh carichiamo munizioni ah se sugli stupi ma è bene devo prenderle ma ops il dietro è non uguale però più finito e comunque una cosa per tutti riavvio la partita perché ne morti 1 2 3 4 abbiamo perso 5 slot ok 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 e ora di altro il server perché ne abbiamo persi cinque slot in un colpo credo che si sia bloccato proprio arma ah no che è successo a riavare avviato la partita perché persi un sacco di ruoli di slot dicevo ma le bende bisogna prenderle o no no le bende si sangue no non ce n'è sangue e si non ce n'è di sangue non ce n'è di sangue non ce n'è di sangue no non ce n'è di sangue no ok eccolo la questo è cancro io mi do fuoco questo è benzina appena prende il ruolo giusto entriamo e finisce perché dice connessione host caduta puoi chiudere con la dentro minchia volevo evitarlo di dirlo ma non facevi prima fare restart si ho fatto restart però quando perdi non guadagni i ruoli se fai restart prima ok 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 io si guarda whatsapp eh ma infatti infarti ah è già cambiato 1944 ma vedete con Poloni oh che bello la di prima si dimora dobbiamo vendere anche noi roba medica che cosa? roba medica dobbiamo venderla anche noi beh io sono medico quindi dire di sì non la prendo io sento un'altra tedesca comunque red bravo ecco non ti funzionano i cingoli eh sì sono nuova tecnologia nazista per non far consumare le maglie dei cingoli le trasciniche adesso le prendiamo? ok diciamo il trance no come no no prendo la palla 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 pallo pallo agister panzer fausto e carica munizioni sul veicolo io ce l'ho un voto di munizioni no munizioni dell'MG42 ma ne frega delle tue munizioni le nostre munizioni nostre munizioni no no aspetta veloce il punto le trancine tu l'ho che cazzo c'è sui ho fatto un'altra cosa devo prendere la palla bravo grazie si può disfruggere? no che move no non lo so effettimamente ci sono gli airplugs gli airplugs? sì anche quelli devi mettere in un inventario definire sì definire definire centrale otto buono perché sono dei tiger duel o cazzo non c'è la vm o che cazzo sto facendo oh no lorenzo è morto no ok 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 ma quali benzi prendiamo che gli metto un po' di munizioni oh secondo me un altro dicono si spunti oh no mi sembra uno spizzer gioco a un Btsd ahahahah 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 Longa frequenza, check 1-1, clear for takeoff Good check, Dario Check 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 Good check, nel lande lunghe da Panthe ий Mi sento più la putta vella con quel carro Eh, ero a te con la radio. Comunque ci sentono anche gli altri in onda e lunga eh Ebbè, possiamo che sia putta vella Ah, scuoti No perché, perché ti sei seguido tutto? Ma è proprio tutti vestiti non me ne sono tanti i vestiti ho fatto aperto sull'arsenale adesso sono nudo ancora ma come sono nudo? mi vedo vestito io e gli mancherà la eccolo Aldir sento un riempito quel tank all'arco che si fa a indicare e che c'è un carro al totto si butti un po' di pacchetti di munizioni la gippetta lì ci ho messo munizioni gippetta come se ho 30 caricatori almeno direi che basta arsenale completo 2 virgoli 2 virgoli se vi servono vale cosa? mi servono un call sono ancora nudo io ho messo bella io prendo la k18 aldir ti va bene del piano che ho fatto in mappa ok poi vabbè per la per la si spesso ok ok alla strago ier Dov'è che l'hai trovata? C'è l'arsenal full qui per le pale, comunque le pale ci stavano Già Io non ho nessun arsenal Sì morì qua sotto i gas qui Devi spiegarmi come si fa Scusa Non so neanche quello come si fa Eh io questo gioco qua sono un po' stupido Non so cosa fare queste cose Non c'è Vai Allora No com'era? Devo dare un attimo a 3ppi salvo su quel mezzo di fondo Era 141 Ah joint ve lo devo dare Ok buono No No Aldi vi ho dato un attimo a 3ppi salvo in quel mezzo aspetto Ok Oddio quanto siete fuori voi C'è ne passano due No Ma scusami mi riesce a suonare quella delle Ehm 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 Ah e quando muore uno come si dice? Qual'era? Beh no abbiamo fatto questo Che è control The funeral Qual'era? No qual'era? Non mi ricordo più Tu non mi ricordo più Premier e poi esche Non mi ricordo più che faceva Ah a tutti vi consiglio di prendervi anche un lanciatore o qualcosa di simile Panzerfaust 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 E 2 1 2 3 No E' un'altra cosa quello che... Che dite partiamo? Sì Vabbè 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 Dai andiamo 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 Dai Ragazzi quando siamo pronti partiamo Siamo pronti Allora siamo squadra rossa Sì perfetto Beh Bebi ci ha messo squadra rossa? Eh Eh No ancora Vabbè gridò che devi mettere i blu non so Io No mi fanno di mettere in meno la blu Che non ha niente nessuno Quanti siamo più che altro? Allora scusa 1 2 3 4 3 5 Bebi con noi Prima Quale squadra quella? Ah Qua 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 Vado con la blu dai Non si vede 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 con la blu dai Con tu mani vieni dai Dai che guida qua Beh Passo il yoga 3d Non si vede con la blu dai Team blu Andiamo al veicolo a 289 Cazzo ho caricato un nuovo qua su palazzo Ahahahahah Ahahahahah Ahahahah 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 Un po' per ricaricare un po' di munizioni qua sopra Chi è qui? Capo carro? Posso caricare un po' di roba e miriata? Un altro Al di Vai vai fai fai il film al film Ho buttato tutto sull'altro Sevi cingolato Arrivo eh Prova radio Chak 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 Ti ricevo? 5 su 5 5 su 5 Non Chak Vada vada Procediamo in colonna, apre il Tiger di Teo e poi a VP1 ci fermiamo, Teo quando vuoi parti pure. Il Tiger di movimento. 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 Ci possono essere mine. Negativo. Il Tiger di movimento. Il Tiger di movimento. Il Tiger di movimento. Il Tiger di movimento. la squadra può continuare a fare la linea rossa, ci invertiamo il ruolo per ora non è negativo, seguiamo il piano venezionale facevo totes è un più diversivo fatto apposta è una manovra masiva come fanno a stare i piedi? penso che possono fare solo per i piedi e i passi guarda pochi a combattere e voi due? mettiamo più avanti il malambeccic vittoria a tutti accoppati posso portarlo un po' avanti finchè non mi dice green in quel mare vado avanti via raggio e te lo comunico e voi qui sono medico, oggi ho un ruolo dedicato quindi salta su a presto la squadra rossa dalla nostra porta del fiume sembra libero qui tiger vedo un bunker o un anticarro ricevuto ricevuto visuale sul bunker ricevuto abbiamo anche un t34 dall'altra parte del fiume magari se chiamate l'aereo che bombarda il bunker dopo per t34 possiamo arranzarci noi negativo volendo possiamo entrare noi con la fonteria aldir qui green dog, è sicuro avvicinarci? negativo abbiamo un carro davanti attenzione che la fonteria a destra del fiume siamo noi esatto di fronte al tiger nostro carro e a si a e a a e a e Team blu ad aviazione, passo. Abbiamo un carro armato nemico all'incrozo a nord di VB-5. Riesce a ingazzarlo? Passo. Oh Dio. Iniziavo malissimo. Copiato, ora mi senti meglio? È negativo. Comunicami quello che serve, io ti sento tutto bene. Ok, abbiamo un D-34 all'incrozo a nord di VB-5. Si riesce a ingazzarlo? Passo. Copiato a nord di VB-5. Mi metto a guardare. Si, è vicino all'incrozo delle strade. È vicino all'incrozo delle strade a nord di VB-5. Teo, puoi scollinare. Dei caricatori sono più piccoli da l'altra volta. Negativo, non l'ho visto. Riesce a dirmi se è a nord o a sud del ricrocio? Per il momento che controllo. Si sta ritirando. Si è ritirato e non lo vedo più. Copiato. Riesce a questa trincea. Fagetti, ho fatto una trincea qua dietro, eh. Ok. Si è caricato di più io, ti miscono subito. Contatto sulla sponda di là del fiume, alla destra del ponte. Sto facendo una trincea qui, eh. Fanteria in arrivo dal ponte. Il bunker qua sotto dobbiamo prenderlo? Sì, sì, ma sono contatti di sicuro lì dentro. Eh vabbè, lo dobbiamo andare o io. Andiamo. Andiamo già a liberarlo? Qui su porto aereo o in viso al icra armato, posso leggere? Affermativo, fuoco libero. E' libero il bunker sotto. Bunker libero. Buon saluto, vi raggiungiamo. Dai. Buon saluto. Buon saluto. Negativo per il C-34 ancora in movimento, lato est del fiume. Ripeti adesso, no? Ripeto, il C-34 ancora operativo, lato est del fiume. Aldi che grindo che il canone anti-carro è a 1-3-0 dalla trincea del bunker. Carter. Seguito. Due ad aviazione, passo. Anche a vedere. Abbiamo un canone anti-carro a nord-est di VP5, marcato sulla mappa, passo. Roger, mi confermi vicino al fiume? Affermativo, è vicino al centro di casa Dai, sbolla questa bomba Yes Impatto positivo Squadra Tiger, va a cambiare il carro Fanteria sulla collina 1-3-0 Rai, mi ricevate? Sì, stiamo volando, siamo al web Con un carro? No Quanto siete lontani? Siamo al web1 Dove è arrivato? Vai, tira ancora una Sì, se la tieni proprio alzata ti vanno tutti i colpi E così è perfetto, è perfetto, è perfetto Alza l'ampeno Alza l'ampelino Perfetto, così va benissimo, va benissimo così Fanteria al ponte Avviazione, rientra alla base per riarmer 2 Rissevuto Allora, mettiamo stelmerde Guardi, piantati qua in mezzo Non li vedo Eh, sta qua dietro questo carro La, quello carcassa Ok C'è un altro veicolo Sta lì dietro Eh, cazzo, sti caricatori No E' roba di precisione, lascio a voi che sto finendo i vochi Ok Eh, morì, Fenice, dove siete? Eh, la trince è vicino al ponte Occhio green, è che il carro non ha visuale buona Stavo giù Stai, che è uno, hanno vai per giù Il saluto, Pygare, avanzate fino a WP3 Noi del team blu Vi seguiamo Non è un pygare Non è un pygare Non è un pygare Non è un pygare Dove sta rimanendo? Fattere Infanteria ostile dall'altra parte delle fiume Vai avanti un po' Caro attento eseguo il cingolo che cadi in mare Vai un po' più verso la sinistra, leggermente Vai un po' più verso la sinistra Bono, così vedrito Perito Al dire down, ripeto, al dire down Vada Tiger, fermati a fianco e i due a terra Fermali, fermali, fermali Tiger Vada Tiger Vada Tiger, fermati a fianco e i due a terra Dev'rattoppa' tutto Vieni, ricordi Ce la fai a andare per il dietro di 34 E non mi chiede Mi chiede Ci vuole bollissi E' la storia crolla, sviene Vada, niente di che è un colpo al torso Sangue non ce n'è E' il rifillo, ora è seguitemi Lo stai concedendo, tu lo stai cuocendo Sì, fatto Kai, apposta, un attimo Kai, quello volevo intendere la pace Ma non, sono invincibili Ma non, sono invincibili E qui, avanziamo davanti Lo segue Qui c'è Chi 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 Grappa! Franteria sinistra della strada. Cannone anti-carro dentro il bunker a 1-4-0. Beh, ho appena preparato questo veicolo dove siamo io under c'è un cannone anti-carro. Tiger, Bezos, suonanti carro. Ci sono anche quelli lungo il fiume. Adesso lo ci vedo. Spaghetti di impulsione finite! Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Sì, c'ho l'entore di spettacolo. E' il blindatino. Com'è? Lo vado a prendere, sì. Un po' scultetta. Ok, tranquillo. No, ripeti? Era il blindato. Ma la porta a prendere, nonostra bike. Nonostra bike mi legato è spesso. Ok, nonostra bike mi legato è spesso. Ok, è suonare, ancora da c'è qualcosa? Molto in sale. Questo, nonostra baile, nonostra hike. Senanza, ok, nonostra. Nonostra, nonostra che 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 l'e fanno. Cosa cazzo? Posso portare un'erba con il disco Vai per un'erba che fa donna No, no, non c'è nessuno, almeno io non vado a nessuno Team Red, ripulite il bunker che abbiamo a Est Ricevo nell'isola tra le due squadre Esatto, dovrebbe essere 6-0, 7-0, più o meno Ho ricevuto Oh, comandante Contatto alla trinzea 1-3-0 E lui dai non fa un cazzo, cioè Sì, si è comandante Troppo Eh tanto sono comandante, vai 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 Vabbè, vabbè cazzo Vabbè, vabbè cazzo Vabbè, vabbè, vabbè Vabbè Arrivano a difendere, difendere Blu ad aviezione, passo Avanti per aviezione Di lì che c'è del fumo, di lì che c'è del fumo vicino ai bunker Bunker sono marcati dal fumo bianco Una squadra rossa, bunker ripulito Mi seguito, tornate al ponte Spaghetti sul ponte Arriva Bel colpo A chi servono munizioni abbiamo il nostro blindato qua al ponte C'è poca roba, ho messo solo quelle per me E' dentro il bunker a 140 Lo vedi il bunker a sinistra? Ciao ragazzi Mi sono appena connesso, non è che detenteo di trasportarmi Parlate in due, non capisco Dimmi re Il tizio è sul bunker Ok vai vai Stai ho vedi sto bunker mi è scoperto davanti a noi più video Esatto quello che stai puntando E' spara dentro Altro contatto alla trincea Spara bene Io non c'è Marco perché ha bisogno di un teleco Nuova terra No, ho disconnesso No, ho preso di nuovo Beppi E' mocafato Ok, questo vuole dire Sì No Anche Ha preso qualcuno A me Blu ad aviazione, passo Si serve un altro supporto aereo sulla stessa avvola, passo No, ho preso Ho preso una bomba da 100-200 kg E' No ragazzi Mi sento No, ne siamo sotto a poco Niente di no Buon notare Soporto Abbiamo un cadavere Ma non ha colpi Soporto Ha una La Dpt Ha una Dpt Ha una Dpt Ha una Dpt Ma non ha i caricatori Di stare a partire Sì, dobbiamo mettere il carro davanti Sì Sì Sistema Guarda che il tutto è comandante No, 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 no No, 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 no Perché non lo vedo Signore Guarda che non c'è spuglia Ho anche un comodo, non si serve Allora siamo Vabbè, sistemato Eh, io ho sentito bomba da 500 libri Eh, appunto Direi ottimo 500 kg 500 kg, scusa Sì 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 Red Au Affermativo Cosa? Disto che hai perso il ruolo Prendo quella C'è Bimbi Disto che hai perso il ruolo Prendi? Prendo quell'arma Ditti Va bene Ditti Ditti Quasi fama Beh, via più non avevo preso Mi sa Ottimo, la zona è proprio quella Faccio un ultimo passaggio e poi ritorno alla base in terra e ricaricare le bombe. Guardate alla direzione amica! Aspetta la vista! 1-3-5! Io finco le schede sono arrivati! Come sempre! Non c'è più un contatto! Scusate, ho trovato un posto! Scusate, finisco che era un rumbo! Non c'è un rumbo! Non c'è un rumbo! Forse c'è un rumbo! Superferio! La squadra rossa attraverso il monte! Ricevuto, ottimo lavoro, aviazione! Riprendiamo l'avanzata! Aspetta, ok, andiamo avanti Teo! Ok, andiamo! Ok, andiamo! Ok, andiamo! Un po' più a sinistra, attenzione! Ok! Ok, andiamo! Torino. Ok, andiamo! Ok, andiamo! Oh, guarda! Davanti a noi, davanti a noi! Davanti a noi! Non incinerate a Ivi! Direzione 130 Manziamo verso 130, liberiamo la bunker Reggio ha avuto aiuto, possiamo tenereci dalla parte destra della strada Voi rossi, restate di là, andiamo noi blu Reggio ha avuto bunker dalla parte destra puliti Scusami, c'è padrona Teo, voi restate sulla strada, non andate nelle frasche Scusami 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 Hanno preso il comandante del carro, Tiger C'è il fire indietreggiare che abbiamo Tiger Tiger, puoi indietreggiare C'è un T-34 Tanti al Tiger Oh, cazzo Tiger indietreggio Ok Arrivo, arrivo Medic, abbiamo undir down Arrivo No, no, è su, è su, è su Vai ancora indietro, vai ancora indietro, vai ancora indietro Vai leggermente a sinistra Andate, ferma così, ti curiamo mo Ma basta, basta Tiger, non muoverti, è infanteria dietro Sono avanzati qua, eh E' arrivato indietro Lo spago, lo spago Spago E' rimbalzato il Tiger Vai libero Vado, vai Non alberi di metano Stare bene a bordo del Tiger? Team Blue, torniamo sulla strada Prosegue È il nostro carro quello che hanno preso? Negativo Negativo Qui il supporto aereo non aumentiscono direzione Rissevuto avviazione Non mi ha persigliato Non ti fai Surturata Deto Non mi ha persigliato Rissevato E' rimbalzato Non mi ha persigliato Non mi ha persigliato poco amico poco amico è da terra no no quello dietro non era niente era marroncino quello su il laghetto su il fiume oh cazzo ti rendo che è down dietro avete delle unità di fanteria alla vostra sinistra dalla collina si 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 quasi a metà ok ragazzi vendateli però le persone che viene di portacela si è morto il pilota io adesso entro con mazza la prima finisce e andremo alla grande ecco come riconi il letto ok scolo io faccio il personal ancora c'è un tipo dietro c'è un tipo dietro l'idea che altro è stato a sistemare? ma a red e pieto in giro tipo down questo giro, punto, muoio bevati, bevati l'idea che ti siete trasportati hai sei leggato via ok? si è vero che è morto? non ti piace il kit ma chi è morto? ma gridi non voglio oh cazzo ehm allora vieni come hai chiamato a liberare quel bunker lì ma easy granazzo ehm fa vedere il polso fa licep ar quanto corto? forse su, porto aereo e franteriore su, porto aereo e franteriore Avanti avversione Attenzione, in prossimità del 247 avete un semicingolato sulla strada russo Rissavuto Se riesci hai fuoco libero Copiato Ma eh, sta bene No, lo so, me lo trovo Il pilota non vede Se la posso, comunque sono bianco Il comandante è quello che vede, quindi Red posizione Ah, sali solo a collino Riprendiamo il movimento Tiger avanza pure lungo la strada fino sulla collina Per l'altra pancata È un'altra pancata È un'altra pancata È un'altra pancata Allora qui su portale il segnale cimbrato dovrebbe essere chiusa per l'interno in seguito a mezz'ora la squadra blu dove state avanzando? Siamo lungo la strada proprio prima dell'incrozo Bisogna accettare la trudice spugnino Affermativo In movimento lungo la strada Prendiamo posizione sul villaggio e poi vediamo come attaccare il prossimo obiettivo Qui su portale ho chiesto di possibilità del 27 anche per il 24 Malumare E ripeti aviazione, comunicazione disturbata Blu ad aviazione, non ti ho copiato, passo Di cui aviazione in prossimità del W27 è presente anche un T-34-76 Ok, ricevuto come al solito ai fuoco libero Copiato Abbiamo un T-34 a WP7 Ok, ricevuto come al solito ai fuoco Ok 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 Ah, l'avevo. Ah, l'avevo. Ah, l'avevo. Ok, stop. Oh, sì. Sarà tipo due chilometri e mezzo, ok. No, sta ancora avremo nel ponte, quello. C'è già qualcuno che sta andando? Ok. Volevamo prendere le macchinine che stavano là sopra. Oddio, in effetti è vero, ci sono le Kubelwagen. No, no, più che altro è andare a prendere il cingolato. Di dietro ci stanno delle macchine americane. No, che so, tisse. Americano. Vabbè, sì, sì. Ci fanno delle macchine. Vado via a prendere il cingolato. Vabbè, ha detto Redd che va a lui. Cazzo di problemi c'è a questo. Che facciamo? Eh, niente, siamo in attesa, al dirà detto di aspettare. Mi ha detto stop. Ma non senti la radio? No. Ma che frequenza ho visto? Ma hai cambiato, scusa, hai cambiato canale, per caso. Frequenza 200. No, ce l'ho. Niente. Ah, ma non la sento. C'è qualcosa che non va con il PS, non sento la radio. Mi sento? Ah, fai re-enable. Ah, ok. C'è che radio, prova. 5 su 5. Adesso andiamo a dire che ogni tanto ti diceva va avanti, indietro, prova, per quello. Ascriviti. Pronto comando. Comunque, al dirte. Sei post qua sopra, ancora. Sopra il carro. Ah, vero sì. praticamente sono andati a prendere l'altro veicolo e adesso posso battere la cava? no le scrammetti hanno dietro il cane non viene giù a quell'ultimo contatti contatti direzione 215 200 metri l'avevi anche fatto alla direzione incredibile non ancora davanti 2.15 guarda 2.15 non ne vedo più potete spostarvi un po' davanti vai un po' più non ne vedo 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 più ok team rosso nel blindato e anche team blu tutti insieme teo quando vuoi prosegui pure sulla strada noi vi seguiamo non è meglio caricare un medico nel tiger che almeno se ti fanno esplodere c'è un medico che è morto vado io? mi sa che siamo tutti i medici sono qui vado io vado aspetta teo che mandiamo un medico con voi non mi sento molto sicuro io adesso ma potrei metterti dentro il calore non fuori adesso è un bel verso non ha cinque no no io che c'è non è un po' più Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Team Blue ad aviazione, ci stiamo spostando lungo la strada con due veicoli, passo Incomiato a via in viso, tra poco arriva il team con tutto visivo con il semicingolato divertitato Grazie a tutti Fra poco arriveremo a un semicingolato ma è già stato abbattuto dall'aviazione Grazie a tutti Attenzione inoltre, che sono un'opera di porto, non vedete, e da qualche parte è il problema L'aviazione, il semicingolato non è stato disabilitato, passo Mi sembra stato disabilitato E' stato un'opera di porto Sì Più alto Ok, sono buoni questi colpi Questi colpi Guardi che ho visto in franciato Ma colpite il colpe, è... E' il colpe, è scara, è colpe il colpe Calco la vecchia è sempre la vecchia possiamo proseguire la vecchia è stata la vecchia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove me la puoi alzare te, Andy? No. Sì? No. Ma a me ieri non la faceva. Mi spari da sinistra. Ieri, altro ieri, con me. Ah sì, lo... 0-2-0, in mezzo al campo. 50 metri, sì. 50-100 metri. Sempre 0-2-0, 200 metri. C'è una possibilità della boscaglia. Oh, mitragliere, davanti a noi. Foresta, lontana. La vedi, la gente? Mitragliere? Scusami, me l'ho puntato, parcafello. Come fare la morfina, per favore? Armored, dietro il convoglio. Guardate per 0-0, in fondo, 200 metri. Movimento, ci sono lì sotto gli alberi. Affermativo, stiamo già puntando. Esatto. Un po' più... Dai, su. Con un bel tiro. Noi altri scendiamo? No, non so come se si può scendere poi in campo a fronte. Scusami, quanto metri saranno? Ipotizzo un 400. Prova di aviazione, hai altre informazioni sul blindato su VP-8? Fa dove sei? Ripetere per aviazione? Ok, noi siamo qua, stavo volando per procedere a guardare lì. Non lo avversiamo. Hai informazioni riguardo il blindato su VP-8? Un negativo che è scomparso tra le case, ora lo sto cercando Easy, target, sono circa 500 metri, 450 metri Easy Jesus Christ No, no, devi prendere posto, prendere posto Quanto sei compatto allora? Ok, ho visto il 34, sembra essere due, sembra essere un'altra della patria, diciamo, a un'altra provoca Ok, lì c'è molto ancora, ti puoi ingazzare se hai possibilità Aldri, vado a vedere il mio figato Riprendiamo il movimento lungo la strada Abbiamo due T34 al villaggio dopo VP8 Che ci aspettano là? Caro davanti a noi, infanteria ancora attiva Lascio pure così Dicarico So minerali ho fatto Ponddevelopo la banda Swhich 넣a Arrpmooo, fermo lo astagio 좀 Chiarano, fermo lo astagionato Lomitare B does notק Mi coriciano Mi coriciano Se tu non si Mi coringa Sav ganga No, l'avriazione, osservo indulto del porto aereo sulla strada a nord-est della nostra posizione il nord-est la vostra posizione è copiata più o meno quanti metri? cosa? sei tu bassissimo sono a 300 metri ma è un blindato sulla strada lo vedi sicuro un casino assurdo, struttoso non è che abbiamo l'intercom no in realtà puoi attivarlo no, non c'è non c'è nessun stradio visual mi è presto a bombardare che brutto è uscita la giusta 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 questo è un altro forse potete manovrare quello ha fatto male quello ha fatto però più male è pure mezzo male bel colpo avviazione abbiamo anche della fanteria lì si fa un passaggio con le mitragliatrici ho piato passo con le mitragliatrici e no 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 chi ha coso questo colpo colpo bello sto passaggio Fatteria da destra sulla destra 50 metri 1-3-0 1-3-0 Perfetto così 1-3-0 Seguiti Scendo dal veicolo che controllo L'ho preso io easy, l'ho preso io Eh l'ho preso io ma sono in due o più C'è squiglia a destra, sparate, c'è squiglia a destra Perfetto Qui è versione, sgancio ultima bomba, sono in bingo, rientro la base Controlliamo ne con la fanteria o lasciamo perdere? Grazie, butta Madonna Tutto quello vi l'hanno tirato Eh, squadra, due di squadra rossa si avvicinano a controllare Stiamo ancora con ti verso il blindato Allora, giriamoci verso il carro, verso il blindato Sembrano tutti a terra di trici spugli, torniamo al blindato E prendiamo il movimento lungo la strada, avanti Tutti a bordo Ah, da stas Altri, credo che possiamo andare adessi Altri, credo che possiamo andare adessi Un secondo, modetta Un secondo, modetta B contatti Mg è una cosa no no dai movimento Mg 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 contanti sinistra, contanti sinistra, ore 11 lungo la recinzione, poco dopo l'albero a sinistra 0,40, 0, 300 metri avevo un mitragliere? non l'ho visto, non l'ho visto, c'ho albero davanti scomentissimo sì, siamo a 100 metri, dopo la recinzione, l'albero a conto c'è qua davanti lì, ci sono 3-4 contanti guarda dove sta sparando il target allora, 5-5, dai, eccoli l'attacco, peccati non so quanto si può attenzione, easy, easy, scusami attenzione, easy, carro a 0,50 dietro la boscaglia traccianti attento dietro libero dietro, libero dietro, libero dietro libero dietro postante vita dietro al Tiger metri e.m. il il reso non mi vanno di perdonare la questione mi risiede, passo non ti ho copiato, passo No, dove? No. Scendo dal veicolo. Autista è sceso. Perse è blu. Blu, io perse. Sponda a destra della strada. Arrivo. Allora, sei qua, spago, spago. Blu è d'aviazione, passa. Aldi era qua su. Fini? Ah, ok. Mi stavo cercando, ti avevo visto davanti. Sì, mi ero messi dietro il carro, ancora mi cance. Carro disabilitato, carro disabilitato. Non è avanti. Rissevuto Tiger, voi siete dannezzati. Cosa? Mi ha fatto male quando ho usato una scheggia. E' rimasto dietro il Tiger, ancora mi ha in mente. Ah, sì, sì. Tocchi di terra qui sul porto aereo, siamo rispondibili. In seguito abbiamo ingazzato il T-34 su WP-8 e abbiamo della fanteria in movimento sempre verso WP-8. Copiato, ci sono tre camion senza fanteria in prossimità del 2.8 adiacenti alla strada. Non sono arrivato. In seguito? Tiger possiamo ripartire. Tiger in movimento comunque si inserisce un po' dall'esattiva di TK. Tocchi di terra, ferma, ferma, ferma. Carro 040, in mezzo all'autoscaglia, 500 metri. Lui è di aviazione, abbiamo un altro carro nei pressi di WP-8 a nord della strada, passo. A nord della strada copiato sul tollo. Vieni indietro Tiger, sta arrivando l'aviazione. Il carro è stato distrutto. Il carro è stato distrutto. Il carro è stato distrutto. Stiamo vivendo fiori praticamente. Qui è iniezione, vedo un mezzo in fiamme. Ci sono dei riacosti. Ci sono dei riacosti. Tra quell'ora, ma tu. Affermativo, era quello il carro, è stato distrutto. Cresce. Per l'esima volta, avanti. Avanti. No, perché non sei, non. C'è un bel bel giugno Il primo è un bel giugno Il primo è una cosa Il primo è un bel giugno In blu ad aviazione si stiamo spostando via la strada in direzione Fp8 Sì, abbiamo colpi, dai, eh Eccola Seccato Sì In questo colpi in fronti sono arrivati Sì, sì, occhio per 045 in mezzo agli alberi, le due file d'alberi sinistra Sì Aldir, qui, sì, magari chiedi al nostro Stuka di buttare una bomba qua su sto piazzale di alberi Sì Ok, quello sul lato sinistro della strada, giusto? Sì, sì Confermato, questo qua è proprio a sinistra davanti a noi Sì 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 Lui ad aviazione, passo Provati per aviazione Ok, ci serve supporto aereo nel boschetto subito dopo l'incrozo a nord-est di WP8, passo Potete farci? Sì Sì Copiato Copiato, mi confermi Nord-est WP8 È più o meno dove c'è quella casa, colpezzorosso Affermativo, passo Mi sta arrivando il supporto aereo Dov'è Bazzotto? Preccia avuta Sì Schianciato Buono, 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 bravo Azote Effetto interrogativo? Affermativo, proprio in pieno Sì 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 Contatti per... 060, 300 metri vicino alle mura Può di niente? Non vediamo la secca Oh, è qui là Così Sì 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 Ci serve supporto sulla... Sulla chiesa dell'obiettivo principale abbiamo fanterie in movimento Copiato, avuta Abbiamo una tratta forte Piran, a parziale di 800 E' una parziale Ha fatto fuori la bellezza di tutti i ginastri di MG41 Madonna Ho preso in pieno Adesso ci spostiamo la persona di Tio Un passo I Tiger c'erano un contatto, scusate Tiger, al prossimo, non c'erano ferro Tiger Attenzione per lo supportario Sulla vostra destra avete quei meggi Quei camion Non so se ci sono Il seguito andiamo a controllare Questo è fuoco di controcarlo Team blu e rosso scendere Ho ricevuto Sinistra, sparano Quei, chi è la mamma merda E' un cecchino questo Ah, lo che sei andato Ok, visuale su un nemico E a destra il granaglio per... Arroca Ok, va bene Va bene Allora, si È un veicolo che si sta spostando Oh, via 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 la veicolo che si sta spostando Anche via 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 eeeh, ho visto il piccolo riciclante per 050 dietro l'albero eeeh, una volta scuola dentro la città via via il carro sta per esplodere, via 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 finisce l'ordiamo indieta no no, continuiamo ad avanzare, serve copertura subito, andiamo vicino la casa eh, resto qui per rinfinetto abbiamo green e aldir down eh, refi ci puoi pensare te si si sto già facendo ok, appena finite corretti subito verso la casa a chi porto i due feriti? porta lì al blind down porta lì dietro il mezzo blindato ma cazzo oh, eeeh ehi, su qua aldir, ah, ok sta bendando green dog, benda, benda, benda aldir ah, aldir è alp, cioè è qua davanti a me non capisco cosa sta succedendo ma, ah ok, era morto in piedi non capisco vai l'alfa eh, tu eeeh dove l'ha? stiamo arrivando in voi crederci sia qualcuno ancora ad infiltarlo no, no, stiamo arrivando in controllo subito no ah, ce l'ha fatta tirarlo fuori dalla fiamma due ad aviazione, passo ma no in fondo le vi。 tira tutto quello che hai sulla via, abbiamo un fuoco di anti carro,vanteria, passo siamo tutti incopriato e vissero, però bene siamo vivi albío? A posto allora aspetta personal un cavo uno del carro, ah, ran гregger 3 sì no, non muore più No, non muore più L'ora è finita, ho due uomini a terra qui Servire un medico Dove, dove è? Arrivo Dove siete posizione? Vedo se riesco a tirare un fumogeno Guarda qui, guarda qui Ti portiamo Vengo pure io Fumogeno, piego sulla nostra posizione Alla casa vicino a... Cos'è? Abattivo Il casa ha detto rosso Oh, cos'è? Ripeti, refi Il casa ha detto rosso Ehm, non lo so, ci sono detto Eccolo là, è... I, easy, a destra, a destra Ah, era zotto, ok Lo vedi il fumogeno refi? Negativo Ok, proseguite la vostra sinistra e trovate il fumo Ok, trovato Ho sparato un flore sulla nostra posizione Attento Aldir che c'è un'artiglieria qua che ci ha tirato giù Da qualche cannone Che c'è tirato giù Però qui, abbiamo raggiunto l'altra squadra Allora vi aspettiamo Ehm, siamo qua vicini Siamo a vostro destra Tirano Vincito Andiamo Heeeh Heeeh Oh, chi è? Oh Heeeh Ehi lo svegliamo adesso Un po' di più 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 Venisce? Venisce a fare la luna? Ma ci manca spaghetti? Spaghetti? Mamma mia Ragazzi spaghetti Carbonara Una scelta Il porto aereo Non c'è nessuno della battaglia Ho notato diverse fontanelle all'interno E trattate a scanciare una bomba da 250 Un po' di più Sto facendo rapacchi? La bastia è libera Poi bombardare Copiato inbound con la bomba da 250 Finisce la battaglia Oh, mi vuole ancora provarmi con la pari in faccia Qua scopi Siete ritornegando a braccio? Sì, mi hanno appena ferito. Blocco i spaghetti, aeroporto su Rinato. Dove siete? Siamo nell'edificio a ovest dell'Abbazia. Vedo i contatti qua all'esterno. All'entrata. All'entrata, alla gabbia di tratta. Spag, vedi che a ovest dell'obiettivo c'è un edificio lungo. Ok. Tra l'altro. Ancora, ancora, portati. Mi hanno colpito. Dove sei? Un medico, si può vendere da su. Ho questi 34K. Quanto atti lungo la strada sinistra? All'esterno con Green Dog. Ok. Avanziamo verso l'ingresso principale dell'Abbazia. Attenzione con la camera che ci sono alleati vicini. avviazione ha cessato il fuoco sull'Abbazia, la stiamo occupando noi. il fuoco sull'Abbazia. Copiato. Avviazione a terra. Avviazione a terra. Grazie a terra. Arrivo. realmente un po' di fanteria a terra nemico ok abituale trovere da destra però a di qua ok non secondo me io qui marca sono all'ingresso della pazzia anzi easy arriviamo arriviamo fermaci lì non ci sia un po' di figa dentro è proprio lei cosa? ho detto dici che puoi ripararlo ah si una munizione mi compri un'altra no addio mamma mia sempre più difficile e cosa allora? sempre più difficile no si spero di trovare le parti mamma mia stavo per stappola che grilletto ok ragazzi è tutto pulito e minole l'antena radio ce ne andiamo vogliamo anche suonare la corna musa minala 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 vabbè andala l'ultimo minala 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 mi ha messo minala 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 mi ha messo minala non mi ha messo mi ha messo un po' no non non mi ha messo circondiamo mi metto dietro il medico non dobbiamo vedete il fuoco mi trasplosano mi trasplosano mi trasplosano non mi era il dolore non mi trasplosano un rinomino non 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 a presto Ma la componi tu in diretta o è preregistrata? No, no, la sto facendo via in diretta Ma, grazie Va bene Va bene, la tua tutta Che figata Beh, potremmo fare il ritmo del DR Come con una musa, a ruolo Pazzo, è una canzone di Band of Brothers Com'è l'inno russo? No, la canzone è prima Posso prendere il brilletto? Sì Facciamo l'altra foto, ragazzi Posso tenere la cronoma in mano? Mi sono ritrovato a terra, svenduto e ho detto, ma che cazzo è successo? Facciamo una fuscilazione Perché non hai dato lo stuca che hai metato aereo per truffarci tu Ti sento un'aereo inglese, hai usato Lo facciamo con stuca, ho io Hai usato uno speedfire per aiutarci Speedfire? No, ci metti male, lo c'è per matto Porto verso, no, no Non so che non cazzo E' apparsene, è per scomparsi Chiudo lo streaming o ci sarà un qualcosa? No, no, aspetta a chiudere Ok, dici Andate via da Vidi, via via, scendete Via dall'aereo Scendete, 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 scendete Giù, 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 scendere, scendere, scendere Ok Ok Ok, oh, mo No, girano No, voglio fare un maschile. Così, così. Eh, ma dico, se mi incontro a luce così. Mamma mia. Che cose le so le tira? Comunque mi avessi già l'altra canna. Ho visto il daito scuola. Ma calma, non accalcatevi ragazzi. Tutti sopra! Ormai non c'è stata una granata? No, però di no. Questo giro me la faccio anch'io qua. Niente? Mi sono spaccato la mia mano. Potrei essermi rotto qualcosa. Chi è che c'è? Ci siamo? Ci siamo? Sì. Siamo tutti? Sì. Ascenta il braccio, ascenta la mano. E non sei teo? Eh, io sono qua sotto e faccio la foto da Deus. Non sono comprensato io. Ok, uno stragiato. Uno mi si straia dalla parte destra, sull'ala in fondo. Come si fa? Dalla sopra sopra, sull'ala in fondo. Come ci si straia? Ecco lì. Non so chi era. L'ho stragiato da un lato, però. E come si fa? Eh, control A o D. Sdraiati. Z. Tipo pin-up. Fai, control D, control D, control D, control D, non arrivi della. Ok. 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 E tu la pin-up a Zot. Fermi. Fermi. Fermi, fermi. Ok, aspetta ragazzi. Un, Glenn. Ok, aspetta il broIZa di mani. Ok. Grazie per la visione!